Il primo giugno 2013 siamo in chiusura dell'assemblea Cambiamo Noi, assemblea referendaria, in cui sono presentati un pacchetto referendario e stiamo in compagnia di Mario Staterini, segretario di Radicali Italiani. Radicali Italiani è un'associazione radicale e fa parte del comitato promotore di questi referendum. Mario, come sono andati i lavori? Il tenore politico della discussione, degli interventi sono stati parecchi, come ti è sembrato? L'assemblea in particolare nella mattinata credo che abbia avuto un valore anche per chi l'ha ascoltata dalla radio. Abbiamo avuto un mix di presenze, dalle presenze più politiche di quelle strutture o strutturine, se così si può dire, che si sono messe a disposizione subito del progetto referendario e quindi per una partecipazione attiva. Quindi oltre a Radicali Italiani abbiamo il Partito Socialista e abbiamo appreso oggi anche della voglia di impegnarsi su tutti i referendum, meno il finanziamento pubblico da parte della Sinistra Ecologia e Libertà. In più abbiamo avuto la possibilità di incontrarci, anche di conoscerci a volte fisicamente con quelle associazioni, quelle personalità del mondo dell'immigrazione, ma non solo, del mondo delle famiglie legate alla questione del divorzio breve o agli amici evangelici o del UAR che abbiamo ritrovato, che hanno interesse su uno o su tutti i referendum. Quindi credo che sicuramente c'è stato un dato importante perché ci si è incontrati per la prima volta, magari tutti quanti insieme si è potuti parlare, conoscere e cercare anche di trovare un fattore comune nell'ambito delle iniziative che dovranno essere prese. E dall'altra, grazie a Radio Radicali, abbiamo avuto la possibilità di far comprendere, probabilmente in maniera più continuativa visto il tempo e anche a un numero più importante di persone, vedremo quello che sarà accaduto con i Tg, con le agenzie, con i siti domani sui telegiornali, però quelle che sono le ragioni alla base della scelta di questo primo pacchetto di referendum. Ecco Mario, giusto tu parli del primo pacchetto. Abbiamo avuto l'intervento di Marco Pannella che è presidente di un comitato referendario, di un altro comitato referendario per un altro pacchetto di referendum, sempre in casa radicale. Marco peraltro ha accennato al fatto che su questo logo, cambiamo noi, non è presente nulla che richiami al mondo radicale. Tu in qualche modo, relativamente a questa compresenza di comitati, a questa velata in qualche modo critica che fa Marco per riguardo al simbolo radicale, che cosa pensi? Ma innanzitutto capiamoci, noi abbiamo fatto un percorso come radicali italiani, col comitato in cui sono sempre stati invitati tutti e anche quelli che hanno scelto di non avere radicali italiani come interlocutori, di non iscriversi proprio per cercare di coinvolgere all'interno della strategia referendaria l'intero partito. Ricorderete che ci sono stati per lungo periodo delle contrarietà rispetto alla strategia referendaria, perché vuoi che non avevamo le forze, vuoi perché c'era regime, vuoi perché bisogna prima ottenere gli spazi televisivi, vuoi perché era magari vista addirittura in contrapposizione con la lotta non violenta sull'amnistia. Poi siamo arrivati a definire un pacchetto, le condizioni di partenza, il mandato di radicali italiani, dei militanti, giusto o sbagliate che fossero, ma su cui si è riusciti a convincere anche coloro che da subito volevano fare referendum ma avevano del timore, era quello di puntare su un pacchetto ristretto di referendum perché non siamo più nelle condizioni di forza come 5, 10, 15, 20 anni fa in cui avevamo un altro tessuto nel paese e soprattutto altri denari, un patrimonio da mettere in campo e l'altra condizione era quella di cercare dei compagni di strada perché sapevamo che da soli non ce l'avremmo potuta fare qualora anche avessimo vinto quelle battaglie per la legalità, per l'informazione, per la democrazia che sono condizioni essenziali poi per avere le firme referendum, però oltre a riuscire a far sapere i cittadini bisogna anche avere qualcuno poi che è in grado, una rete di raccoglierle e quindi su questa base noi ci siamo mossi e l'abbiamo fatto con un metodo, un metodo aperto, di un comitato aperto che volutamente ha cercato di garantire a tutti i promotori, certo credo che nessuno può negare che tutti sanno che i referendum erano dei radicali, anzi addirittura dobbiamo sforzarci in questa fase per riuscire a far comprendere che i referendum riguardano anche altri movimenti perché sia dai giornali che hanno scritto sia anche dagli interventi, oggi la radio tutti parlavano dei referendum dei radicali, quindi addirittura abbiamo questo problema ma sul fatto semplicemente del nome del comitato, del marchio, ma credo che queste cose appunto al mondo d'oggi con internet e quant'altro non sia tanto una questione che nel nome ci deve essere il marchio ma piuttosto in chi effettivamente opera e fa le cose, peraltro mi sembra che i tavoli sull'etanasia legale che si stanno facendo in tutta Italia si fanno sotto una bandiera in cui c'è scritto etanasialegale.it e non ci sono marchi se non quelli che ciascun militante, ciascuna forza che fa il tavolo porta a sé peraltro non mi sembra neanche vero perché se vado a vedere qua il volantino che abbiamo fatto con cui i nostri militanti potranno andare è un volantino in cui c'è tanto bello e chiaro radicali italiani addirittura il simbolo, per cui credo che in questo sia stata probabilmente una confusione il fatto rimane poi quello di riuscire in qualche modo a superare gli ostacoli principali che non credo siano quelli interni ma siano quelli poi all'esterno sul fatto di aver voluto poi depositare un secondo pacchetto referendum sulla giustizia io questo l'ho detto anche nelle riunioni con i compagni, con Marco che da parte mia e da parte di Michele era stato già indicato il carcere preventivo come uno dei quesiti da inserire ma non è stata mai trovata una formula che fosse adeguata e non marginale per superare i problemi della consulta è stato anche quando mi è stato proposto sulla fine maggio nei comitati nessuno ha indicato più diversi temi anche perché dobbiamo dirlo nella battaglia sull'amnistia che era sul sovraffollamento delle carci che è sulla durata e sulla lunghezza dei processi diciamo incidono magari molto anche alcuni dei nostri referendum quello sulle stupefacenti, quello sull'immigrazione credo lo stesso sulla divorzio civile hanno un effetto diretto sulla giustizia e non solo indiretto certo devo dire che sono rimasto sorpreso un po' che questa iniziativa sia nata così senza neanche avere un minimo di comunicazione però come si dice in questi casi cosa fatta capo A quindi sono ancora convinto che le condizioni debbano essere sempre le stesse un pacchetto ristretto di referendum e dei compagni di strada che possono dare a supporto chiariamocelo i pezzi di CGL, SEL, i socialisti che oggi sono venuti qua l'associazionismo che oggi è venuto qua a dire ci stiamo anche noi, ci mettiamo la faccia vogliamo raccogliere le firme su questi referendum non saranno di per sé sufficienti è evidente, avremo bisogno di far crescere di far crescere nell'opinione pubblica trovare gente che dà denaro, gente che dà una mano però almeno abbiamo un punto di partenza ecco io credo che anche rispetto agli altri quesiti sia importante creare un fronte che evidentemente in alcuni casi non è sovrapponibile nel senso che evidentemente su alcune tematiche della giustizia è inutile nasconderci non è che troveremo nelle feste della CGL o nelle feste di SEL le porte aperte per poter portare avanti magari delle campagne che sono completamente opposte a quelle che sono le posizioni noi ci proveremo ovviamente quindi si tratta in qualche modo di riuscire a portare a casa entrambi i pacchetti però sapendo che a mio avviso questo pacchetto che è già avviato ha qualcosa di costruito su cui bisogna continuare a lavorare e spero che anche dall'altra parte emergano finanziatori emergano persone disposte a sostenerlo e a sostenerlo anche in maniera fattiva partecipe insomma l'amico Soldini della CGL e i quadri che sono venuti oggi qui da varie parti d'Italia si prenderanno un bel pacchetto di moduli e noi speriamo che riusciranno a compilarli ecco credo che sarebbe importante che ci fosse anche sull'altro fronte qualcuno disposto da subito a fare questo e non solo i militanti radicali ok ringraziamo Mario Saterini e ovviamente lo invitiamo su Libri TV per degli aggiornamenti durante la raccolta firme così insomma vediamo un pochino di spingere va bene allora in bocca al lupo a voi in bocca al lupo a tutti noi e compagni radicali in giro per l'Italia una cosa posso dire noi quello che proviamo in queste prime settimane in particolare nei weekend a fare questo tentativo di riuscire a essere noi quelli che reggono il primo fronte quello di scontro con la informazione che manca con gli autenticatori su cui bisognerà lottare e anche con quelle strutture di partito che già hanno aderito o altre forze sociali che ancora non hanno deciso di buttarsi come accadde ai tempi della fecondazione assistita per fargli comprendere quanto la loro base e lo stesso devo dire anche il popolo italiano ha voglia di dire la sua su alcuni temi vedremo a cominciare ad esempio dal finanziamento dei partiti grazie ancora grazie a tutti